buongiorno ben ritrovati sul mio canale oggi vediamo come costruire la maglia lime io l'ho chiamata lime visto inquadrando in questo momento lo scollo è uno scollo è una maglietta scollo rettangolare e lavorata con un punto fantasia su due righe costituito da punti v e da ventaglietti vediamo un attimo come partire dal dallo scollo innanzitutto la prima cosa da fare stabilire come diciamo innanzitutto il il filato che noi scegliamo ci aiuterà sicuramente a poi formare formare il nostro scollo una cosa che io volevo indicarvi è questa come faccio a fare uno scollo rettangolare allora quando noi montiamo le nostre catenelle per non sbagliare dobbiamo ricordarci che le due maniche saranno occupate dal 20 per cento del delle catenelle da una parte 20 per cento dall'altra il restante 60 per cento deve essere distribuito sul davanti e sul dietro nel caso della mia maglia lime io ho montato una catenella di 130 di 130 maglie avendo poi un multiplo di 5 o così distribuito ne ho messe 25 per le 25 da una parte 25 dall'altra per le due maniche e poi scusate adesso faccio mente locale 42 40 per i due i due pannelli proseguiamo con un piccolo campione innanzitutto vediamo un po l'occorrente l'uncinetto un filato io ho scelto un filato in cotone viscosa quattro marca punti voglio appoggiati qui che possono sempre servirci per permettere appunto il il segno proprio nel diciamo nei punti nei punti principali cioè nei punti qui ad esempio se abbiamo necessità per suddividere i vari settori della maglietta allora 130 sinceramente sono molto sono troppe di maglie da montare per fare un piccolo campione ne monteremo molto meno e vi faccio vedere come procedere io ne monterei 10 e 10 per i due diciamo i due laterali le due spalle scusate 15 e 15 per per il davanti e il dietro vi faccio vedere come funziona la lavorazione molto semplice ho visto che ci sono tutorial molto molto simili e quindi vado a montarmi le mie catenelle abbiamo detto che ne faccio 10 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10 allora fatte diciamo fatta la prima sezione di catenelle se vi è necessario perché avete difficoltà poi di mantenere il numero potete iniziare a mettere il primo marca punti io non lo faccio perché è molto diciamo il campione piccolo va devo andarmi a montare in pratica 50 ne monto perché 10 10 per le due maniche 15 e 15 per avanti e indietro e quindi sono a 50 catenelle adesso dopo le prime 10 vado a montarne altre le altre e ci vediamo alla fine del giro un attimo che spegniamo una volta arrivati alla conclusione delle mie catenelle le metto sul dritto del lavoro e chiudo la prima con l'ultima con una maglia bassissima tiro un attimo su scusate perché ho paura che poi non riusciamo a lavorare bene eccoci qua una volta chiuse andiamo a suddividerli nei vari settori allora come detto abbiamo stabilito nel mio piccolo campioncino di mettere 10 maglie per la manica 23 la prima viene sostituita da 3 catenelle poi metto attenzione si sta sfilando faccia attenzione non fate quello che sto facendo io perché il rischio che poi si sfili cerchiamo di inglobare nei primi nelle prime maglie alte il il cappio iniziale del nostro lavoro se no si rischia veramente utilizzando poi filati molto morbidi di sfilare tutto il nostro lavoro siamo a 23 poi continuiamo così arriviamo all'angolo vi faccio vedere come inserire i primi aumenti 4 voi allora per chi ha utilizzato e ferma punti già a lo sprone suddiviso per le altre che ancora appunto hanno deciso di attendere per mettere i marcatori marca punti è il momento giusto adesso se vi serve se no ad occhio si vede una due tre quattro cinque sei sette otto poi nove e dieci e siamo qui allora negli angoli come iniziamo a dare gli aumenti lo faccio solo questo poi ci vediamo alla fine appunto del del giro vado a mettere due catenelle e nella stessa maglia di di base vado a fare una maglia alta questo qui è in pratica l'angolino tra la manica queste e diciamo il lato della manica e poi metterò appunto la parte davanti o dietro a secondo di quello che vi interessa di più che vi piace di più indifferente perché poi sono uguali allora sul davanti sul dietro abbiamo detto che nel mio campione vado a montarmi le 15 maglie invece qua era allora qui avevo 25 catenelle qui le altre 25 qui ne avevo messo e 40 e qui altre 40 per un totale di 130 catenelle adesso fatto l'angolino proseguo nel mio campione dopo le 15 maglie per il davanti metterò altre due catenelle di separazione vado a costruirmi l'altro lato e così via l'altro ancora ci vediamo alla fine di questa volta concluso il nostro sprone questa volta invece di fare le due catenelle qui dobbiamo andare a creare il nostro angolo vado a realizzare una mezza maglia alta perché così mi permette di creare diciamo di fermarmi proprio a metà dello spigolino vedete in questo modo io posso andare l'ho messo molto aspettate un attimo vediamo ok ci siamo in questo modo io vedete sono in pratica al centro dello spigolo e posso andarmi direttamente a costruire il primo angolo il primo angolo dove poi saranno messi gli aumenti è costituito da due maglie alte logicamente alzando mio sostituisco la prima maglia alta con 3 catenelle poi aggiungo 2 catenelle vado a realizzare sempre nello stesso angolo altre due maglie alte il primo giro d'avvio è costruito con degli diciamo dei ventagli di cinque maglie allora prendo il filo nel nel caso dell'angolo salto nella zona dell'angolo salto solo due maglie alte nella terza vado a costruirmi il mio ventaglio di cinque maglie alte allora questo tipo di lavorazione si poteva fare anche direttamente partendo con la catenella e fare partire subito con il motivo di lavorazione io ho preferito mettere le maglie alte un giro di maglie alte per dare più consistenza allo scollo anche perché in caso contrario secondo me alla fine conveniva sempre rifinirlo poi logicamente se noi utilizziamo un un filato più consistente si poteva fare direttamente sulla catenella e il lavoro finiva lì per fare adesso l'altro ventaglio dopo questo qui vediamo un po 12 1 2 3 4 me ne manca ancora una di maglia ne devo saltare 4 di base vado a lavorare nella quinta 1234 nella quinta vado a creare l'altro ventaglio infatti vedete noi sulle maniche abbiamo scelto di mettere 10 catenelle nel mio caso è in effetti essendo un multiplo di 5 mi verranno delle solo queste due lavorazioni 1 2 3 4 5 adesso vado a crearmi l'altro angolo rientro nelle due catenelle senza mettere nulla tra un lavoro e l'altro tra un e l'altro 2 maglie alte 2 catenelle 2 maglie alte ok e faccio la stessa cosa sul sui lati lunghi quindi salto nel primo cioè dall'angolo salto 2 maglie di base nella terza fatto il primo ventaglio se abbiamo messo il numero di male giuste appunto dobbiamo ritrovarci all'inizio e alla fine con due maglie vuote invece durante il diciamo il lato della lavorazione tra un ventaglio e l'altro bisogna lasciare 54 scusate nel quinto si lavora 1234 nel quinto vado a fare l'altro ventaglio e così via proseguo lungo tutto il perimetro del mio lavoro ok ci vediamo alla fine di questo giro per vedere poi cosa succede va bene a tra poco 3 4 e 5 una volta concluso il nostro primo giro la situazione è questa tolgo un attimo il foglietto così questo è il mio giro di avvio vedete come si presenta adesso cosa faccio vado a chiudere con una maglia bassissima nel primo punto dell'angolo che in realtà era la la terza catenella delle tre iniziali cammino con una maglia bassissima al centro e vado a ricostruirmi l'angolo con 3 catenelle maglia alta 2 catenelle 2 maglie alte allora questo qui è il giro in cui noi dobbiamo andare a creare degli spazi su sugli angoli per poter mettere poi gli aumenti come si fa non niente di più semplice allora fatto il mio angolo metto 2 catenelle filo sull'uncinetto 12 nella terza maglia del ventaglio sottostante vado a costruire un punto v costituito da maglia alta 2 catenelle maglia alta ok passo direttamente nella una due tre nella terza del ventaglio sottostante vado a costruire l'altro punto v ok ricordiamoci però che quando arrivo all'angolo non devo andare a costruire direttamente l'angolo ma aggiungo 2 catenelle perché questo mi darà la possibilità nel giro successivo di creare gli aumenti quindi dopo due giri ci saranno due punti in più due ventagli in più sui miei lati ok 2 catenelle 2 vado 12 nel terzo il mio punto v e proseguo in questo modo fino alla conclusione del giro siamo qui poi 12 vado nel terzo e vado a costruirmi l'altro punto v 2 catenelle punto v so 12 punto v sto arrivando all'angolo quindi mi devo ricordare che non devo semplicemente andarmi a collegare sull'angolo ma aggiungo le due catenelle vado dentro e vado a costruirmi l'angolo questo è quello che dobbiamo fare su questo diciamo terzo giro di lavorazione che in realtà è il secondo del motivo quindi è quello che mi permette poi di andare a montare sopra il gli aumenti ok vado qui e così via vedete allora questo qua è il là sono i diciamo i punti degli aumenti sono qui e qui quindi nel giro successivo invece di avere tre ventagli ne andremo a creare 5 vi lascio non meglio possiamo farlo anche insieme tutto quanto vi faccio vedere come si impostano come si impostano gli aumenti allora l'unica cosa che tengo a dirvi che nel momento in cui noi abbiamo raggiunto la lunghezza dello sprone che ci serve logicamente a parte che sparisce sparisce l'angolo quindi non ci sarà più necessità di aggiungere catenelle da nessuna parte perché appunto il gioco è fatto allora due catenelle vado nel mio angolo metto due 1 e 2 questo è l'altro angolo vi ricordo quindi che noi aggiungiamo solo due catenelle negli angoli 12 ma tra un punto v e l'altro non serve non sennò la maglia tenderebbe a dilatarsi eccessivamente io sto già utilizzando un filato abbastanza morbido infatti la mia maglietta risulta molto molto traforata però è quello che volevo ottenere sicuramente un maglioncino da mettere sopra una canotta qualcosa di che possa coprire allora sono arrivata alla conclusione anche di questo giro 2 catenelle mi aggancio sulla terza del giro precedente cammino con una maglia bassissima nell'angolino 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta maglia alta 2 catenelle 2 maglie alte adesso arrivato a questo punto cosa succede che qui io mi ritrovo con delle catenelle a disposizione cosa devo fare non devo passare direttamente qui ma in questo spazio vado a montarmi un ventaglio di 5 maglie ok 2 3 4 e 5 bene vado qui e rimonto le catenelle mie maglie alte adesso vi farò vedere come alla conclusione di questo lato siamo a 4 e 5 conclusioni di questo lato il mio lato appunto è cresciuto di due ventagli va bene così poi vi spiego perché procedimento è proprio semplice questo vi spiego qualcosina sulla maglia già costruita e non vi tedio più con le mie spiegazioni allora sono a 5 vado qui metto altre 5 vi ricordo che sulle due catenelle sto andando a costruirmi che cosa il mio il mio aumento 1 2 3 4 e la quinta è qua poi sono nell'angolo e vado a costruire il mio angolo come nel giro precedente 2 maglie alte 2 catenelle e 2 maglie alte ok allora adesso la guardiamo e ve l'ho detto ho usato un filato extra morbido quindi a volte quando lascio il lavoro ho lasciato il lavoro per poi riprenderlo in mano mi capitava di trovare un po di sfilacciature quindi stiamo attenti lasciamo sempre molto spazio vedete allora su questo lato cosa succede che inizialmente avevo solo due punti adesso ne ho ben quattro perché ci sono i due che sovrastano questi qui poi i due di aumento e così capiterà negli altri lati ok allora come cosa succede devo ripetere questi due giri andando a realizzare gli aumenti finché non ottengo una diciamo un'ampiezza adeguata alla mia taglia ecco qui vediamo un pochino qui forse si vede allora questo è il lavoro che ho fatto spero di riuscire a farvelo vedere sulleva un pochino più questo è il lavoro che ho fatto ok sono arrivata poi a un certo punto in cui ho ottenuto la mia la mia ampiezza adeguata per concludere lo sprone e sono passata alla lavorazione dritta della maglia nella lavorazione dritta io non ho lasciato così non ho bordato però ciò non toglie che potevamo fargli ad esempio un tipo di elastico riprendendo i ventagli però la bellezza di questo tipo di magliette con questi in tagliate proprio lasciare il punto così come come ho detto noi abbiamo fatto una lavorazione con delle maglie alte iniziali però si poteva anche partire direttamente dalla catenella per quanto riguarda la manica la stessa cosa io ho aumentato dopo aver lavorato tutta la maglia sono andata a proseguire per qualche centimetro la maglia perché la volevo un pochino scesa la manica però potete anche decidere di non farlo oppure di realizzare un maglioncino a maniche lunghe per quanto riguarda il campione che vi ho fatto vedere cosa succede nel momento in cui magari sfilo questo angolo per farvi vedere nel momento in cui io ottengo la mia apertura diciamo questo è un mini sprone cosa faccio nell'angolo come sono qui questo qui il mio angolo invece di andare a costruirlo così come l'ho fatto nei giri precedenti metto le mie due maglie alte cosa faccio non proseguo questo lato ma una volta chiuso vado a ricollegarmi poi nel lato di fronte in modo da poter continuare la lavorazione ok una volta fatto questo lavoro io cosa ottenuto ottenuto che cosa l'apertura della manichina la vedete questa è la mini manica quindi gli angoli mi servono anche per agganciarmi ok in questo modo questo sarà poi l'altro mio angolo e così si lavorerà tranquillamente va bene cioè il lavoro non è molto complicato posso tornare indietro farvelo vedere anche diversamente però il lavoro è abbastanza semplice molto semplice cioè non potrei anche fare in questo modo cioè una volta finito questo giro io cosa faccio mi aggancio qui mi aggancio anche all'altro e vado a chiuderlo ok poi sta a voi decidere come proseguire o se poi ne avete bisogno potete anche aggiungere sotto la manica se magari vi rendete conto che diciamo lo sprone troppo pesante quando vi spostate dall'altro lato quando andate a fare l'angolino invece di collegarvi direttamente potete aggiungere delle catenelle sotto le ascelle vi ricordo comunque che noi abbiamo utilizzato un multiplo di 5 quindi dovete comunque mantenere questo multiplo anche negli aumenti spero di avervi dato delle indicazioni non sono una professionista quindi faccio quello che posso e spero di avervi intrattenuto per qualche minuto ci vediamo al prossimo tutorial a presto alla prossima